Il teatro non va capito, il teatro va sentito. Se uno spettacolo ti piace vuol dire che qualcosa fatto di piccoli dettagli, quella specie di alchimia che rende possibile la comunicazione è riuscita. I dettagli, è questo il tema della nuova stagione teatrale del Teatro Verdi di Monte San Savino. Dettagli che inizieranno con la linea verde, gli spettacoli promossi dalle compagnie teatrali locali per passare poi a quelli professioniste nel 2017 con l'arrivo a Monte San Savino anche di alcuni comici toscani tra i quali Paolo Endel. A novembre, l'11 novembre partiamo con il primo appuntamento della linea verde, quella dedicata alle compagnie del territorio per un totale di nove spettacoli della nuova stagione del Teatro Verdi che quest'anno abbiamo chiamato Dettagli perché ci piace pensare al teatro come un modo per soffermarsi a valutare, a conoscere, ad approfondire un dettaglio. La linea blu, quella delle compagnie professioniste, inizierà nel 2017 con il nuovo spettacolo di Paolo Endel che si intitola Fuga da via Pigafetta perché abbiamo pensato che comunque anche la comicità, l'ironia sia un modo per entrare nel contemporaneo e saranno due i comici toscani che porteranno il loro spettacolo a Monte San Savino. Oltre a Paolo Endel ci sarà la coppia Katia Beni e Anna Meacci con lo spettacolo Scoop che in realtà si deve leggere Scoop perché è ambientato in un supermercato e usa il supermercato come luogo dove confluiscono tutti i diversi tipi di umanità.